Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, per me è davvero un onore la seconda volta che partecipo a questo bellissimo incontro e quest'anno mi è toccato di essere quello che vi separa dal pranzo e per cui cercherò di essere rapida, recuperare magari qualcosa sui tempi e soprattutto spero di non annoiarvi intanto che viene messa la mia presentazione. Dicevamo prima che è un anno particolare il 2019 e il 2019 è stato per l'orificeria italiana un altro anno di crescita. Quasi stupisce questa significativa crescita evidenziata dai dati dell'Istat, se ci dobbiamo fidare degli indicatori Istat ma in questo caso abbiamo un panorama che è in modo univoco orientato in positivo. Ci sono stati degli anni in passato in cui c'era un indicatore positivo e l'altro negativo, bisognava un po' interpretare la situazione. Il 2019 non abbiamo ancora i dati finali, definitivi, ci basiamo sui dati della prima parte, primi 9-10 mesi ma è un anno che vede il settore orafo italiano tornare ad avere dei buoni risultati. Abbiamo visto nell'intervento che mi ha preceduto la fase, se vogliamo, anche negativa. Sappiamo tutti quanto è stata lunga e profonda la crisi del settore orafo italiano e sono stati evidenziati molto bene anche le cause, la difficoltà nella comunicazione, la difficoltà nel riposizionarsi, la difficoltà nel creare dei brand, una serie di difficoltà. Bene, forse qualche cosa a giudicare da questi dati negli ultimi anni si è mosso. Perché sono relativamente ottimista su questi risultati del 2019? Perché questi risultati positivi sono maturati in un contesto complesso. Il 2019 non è stato un anno positivo per il mondo, in generale per l'economia mondiale, ma anche nello specifico del mondo del gioiello è stato un anno complicato. È stato un anno in cui a un certo punto complice anche le difficoltà che poi l'elevato grado di incertezza che si era venuto creando sui mercati internazionali legato soprattutto alla disputa economica e la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, il prezzo dell'oro, come sempre nelle fasi di forte incertezza, è partito. Partito è stato per velocissimo un trend di crescita molto concentrato, lo vedete molto bene da questo grafico. C'è proprio uno scalino a un certo punto dell'anno, tra maggio e settembre, è arrivato a superare rapidissimamente 1500 dollari all'oncia e poi lì si è posizionato con qualche momento di ritracciamento in funzione sempre delle notizie relative provenienti più che dal lato economico, sempre di più dal lato politico. Io sono un economista, non ho la lista politica, ma purtroppo negli ultimi anni ci tocca sempre di più tenere in considerazione questi fattori che influenzano grandemente l'andamento di molte variabili economiche, tra cui il prezzo dell'oro. Ovviamente in una situazione del genere il prezzo dell'oro e l'incertezza hanno avuto un effetto quasi immediato sull'andamento della domanda mondiale. Secondo i dati di Man Trends, del World Gold Council, a cui tutti noi facciamo riferimento, l'andamento del terzo trimestre, il momento in cui il prezzo dell'oro è schizzato sopra i 1500 dollari all'oncia, ha visto una riduzione molto significativa della domanda mondiale di gioielli in oro, misurata ovviamente in quantità, cioè un meno 15,6%, e i mercati più reattivi sono quei mercati in cui per conformazione anche della catena distributiva il prezzo a monte dell'oro quotato all'on metal exchange si riflette in modo quasi immediato sul prezzo di vendita. chiaramente un meno 15% è maturato soprattutto perché sono i mercati più grandi, sono i mercati emergenti, quelli su cui questo effetto è quasi immediato. Abbiamo in mente l'India, su cui in realtà forse c'è da iniziare a ragionare anche su aspetti di tipo strutturale, su come sta cambiando l'approccio all'acquisto di oro dei nuovi consumatori indiani, c'è il tema Cina e Hong Kong, ma come abbiamo già ricordato Beatrice prima di me, lì c'è anche un tema, anche lì c'era un effetto anche politico, la crisi di Hong Kong con la crisi del consumo dei cinesi che erano abituati ad andare a Hong Kong ad acquistare, acquistare soprattutto beni di lusso, per cui di nuovo temi politici e poi temi politici, ahimè, anche dietro probabilmente il ritracciamento, la forte caduta della domanda in Medio Oriente. Questo è il quadro per i primi nove mesi dell'anno, ma non ci aspettiamo che siano intervenuti dei significativi cambiamenti nell'ultima parte dell'anno, per cui possiamo dire che in realtà è un anno che per il mercato, la domanda mondiale della gioielleria, non è stato certo l'anno ideale, ma le esportazioni italiane invece hanno macinato dei buoni risultati. Le esportazioni italiane di gioiello, in specifico il mondo del gioiello in oro, sono cresciute dell'8,8% in valore, ma uno mi può dire, ah ma accidenti, certo col prezzo dell'oro che andava così su sarà tutto prezzo, no, sono cresciute invece addirittura del 12,1% in quantità. Questi buoni risultati poi sono stati ottenuti su una pluralità di mercati, sono diffusi, non c'è un unico mercato trainante, abbiamo avuto dei buoni risultati un pochino dappertutto. e appunto il dato in quantità è particolarmente positivo, più 12,1%, certo c'è qualche segno meno, di nuovo mi viene da dire accidenti, di nuovo la politica ci mette bastoni tra le ruote perché tra i dati negativi, vedete c'è il Regno Unito che è stato interessato nel corso di tutto il 2019 dalla fortissima incertezza creata dalla vicenda shakespeariana, mi viene da dire, relativa a Brexit e per cui forse una buona risoluzione potrebbe portare nuove opportunità nel corso dei prossimi trimestri, dei prossimi anni. A mio avviso dietro questo risultati positivi a quasi tutti i mercati e poi anche relativamente ai nostri tre principali distretti. Qui riesco a essere meno precisa perché il dato a livello provinciale è disponibile solo per l'aggregato che include anche il mondo della bigiotteria e dell'argenteria e soprattutto non esistono, Istat non diffonde i dati in quantità. Per cui dietro questi risultati effettivamente ci potrebbe essere anche un impatto di prezzo ma per quanto ne possiamo sapere tra gennaio e settembre tutti e tre i distretti principali produttivi italiani hanno registrato dei buoni risultati all'export in particolare si segnala Arezzo. Su Valenza c'è tutta una tenamatica vedete questo forte su e giù non so se lo vedete appunto sono i dati relativi ai trimestri ho un primo trimestre negativo un secondo trimestre molto positivo e poi di nuovo mi affloscio i dati relativi alle esportazioni della provincia di Alessandria per l'aggregato, rificeria e bigiotteria stanno facendo l'altalena su e giù da molto tempo sono sempre più difficili da analizzare perché il dato è sempre più influenzato dall'operatività del stabilimento di un grosso operatore di cui non faccio il nome ma tutti sappiamo chi è con degli invi verso in particolare verso la Francia che è la sede della capogruppo e questo crea come dire dei movimenti anche in funzione delle policy di transfer price all'interno dei grandi gruppi multinazionali voi sapete che in realtà appunto non è il vero prezzo finale del bene che viene spostato dalle varie sedi delle grandi gruppi delle grandi maison francesi può essere anche centri logistici svizzeri possono essere altri elementi e questo crea un pochino di andamento altalenante ma comunque in un contesto che è decisamente positivo e in realtà a mio avviso questa è veramente la mia opinione basata su una pluralità di fattori è che forse qualcosa si è mosso sulla capacità delle nostre imprese di agganciarsi veramente al trend a certi trend del lusso a livello mondiale come dire esiste ancora una grande fascia di produzione del made in Italy dell'oro che è ancorata all'idea cioè che fa fatica che non ha ancora capito che vendere gioielli un tanto al chilo come se fossero dei tondini di acciaio è una pazzia che il gioiello è un gioiello è un bene prezioso di per sé avrebbero venduti a unità a pezzi unici quasi beh c'è una parte che invece evidentemente negli ultimi anni si è svegliata e ce l'ha fatta anche appunto in alcuni casi anche grazie a delle relazioni che intervengono all'aggancio con le grandi maison del lusso che sono a me i francesi sono più bravi di noi a venderlo dobbiamo cioè ormai l'abbiamo capito e così anche negli articoli sportivi pensate è successo in certe catene anche qui non faccio i nomi ma sono evidenti cioè su alcune cose noi italiani abbiamo molto da imparare ancora però anche in qualche modo in questa fase di apprendimento agganciarci alle loro locomotive sta facendo bene al Made in Italy nel mondo queste sono le ultime elaborazioni che ho fatto sulle quote di mercato sulle esportazioni mondiali l'ultimo dato che ho intero a disposizione è il 2018 e i paesi che guadagnano quote di mercato nel contesto internazionale del gioiello sono la Svizzera che in realtà è sede di poli logistici per cui non è il gioiello svizzero mi viene da dire se non in parte la Francia idem e l'Italia per cui molta parte di queste quote di mercato al di là di quelle davvero attribuite all'Italia e in realtà anche quelle francesi e quelle svizzere probabilmente sono dei gioielli made in Italy fatti nel nostro paese e questo dato è depurato da tutta una serie di fattori anomali che influenzano le esportazioni mondiali dei gioielli cioè ho depurato tutto il flusso che entra e che esce dagli Emirati Arabi Uniti che sono una sorta di hub di grande mercato ho depurato dai dati tra la Cina e Hong Kong che anche lì influenzano terribilmente anche perché dietro hanno delle logiche che a volte danno davvero dei dati anomali ricordo nell'anno base che è stato in questo anno nel 2014 tra il 2013 e il 2014 c'è stato un afflusso enorme tra Cina e Hong Kong legato a dei motivi monetari interni avevano bisogno di rivalutare una roba complicatissima che io ho fatto molta fatica all'epoca a capire ora non ve la so nemmeno più ripetere ma è bene depurare da questi effetti per poter avere una fotografia più vicina possibile a quella che è la realtà un altro elemento che infatti a mio avviso ci dice che qualcosa ci si sta qualcosa si sta facendo sul piano appunto della capacità di raggiungere il mercato e soprattutto di posizionarsi su determinate fasce di mercato o comunque avere a che fare con un mondo più complesso è il fatto di essere riusciti in qualche modo a tornare a conquistare quote su un mercato così importante come quello degli Stati Uniti anche qui la Francia guadagna un sacco di quote di mercato questi sono i dati delle importazioni americane sono dei dati un pochino diversi però l'India e la Cina e Hong Kong che sono stati i paesi che ci hanno messo fortissimamente in difficoltà sul mercato statunitense negli anni belli anni d'oro ma oramai si parla di basta si parla di 30 anni fa si parla dei primi anni 90 noi eravamo il numero uno negli Stati Uniti ma non lo siamo più male da un sacco di tempo però pian pianino negli ultimi anni anche lì riusciamo a tornare a proporci come dei player importanti su un mercato che nel corso del 2019 ma lo vedrete presto anche nel prossimi trimestre anche nei prossimi mesi riteniamo possa continuare ad essere uno dei mercati più importanti e più solidi soprattutto da un punto di vista della crescita crescita che lo accennavo prima il 2019 al di là del dato specifico sul mondo del gioiello ma è stato un anno pessimo per la crescita mondiale è stato davvero un anno molto complicato la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina dietro cui in realtà si nasconde una come dire il confronto tra le due grandi potenze la potenza che arriva dal secolo scorso gli Stati Uniti e la potenza emergente la Cina ed è un confronto che va anche al di là del metto i dazi su quali prodotti dove li metto perché li metto cioè proprio un confronto grosso di potenza ha creato sicuramente un clima economico un contesto economico di rallentamento rallentamento forte della crescita mondiale attraverso quello che è poi la cinghia di trasmissione del motore dell'economia mondiale da molti anni il motore dell'economia mondiale è stato alimentato dalla globalizzazione dal commercio dai flussi di merci che viaggiano intorno nel mondo è chiaro che al momento in cui si inizia a parlare di dazi si iniziano a mettere i dazi la cinghia la trasmissione si è bloccata e come vedete dalla riga arancione dalle stanghette arancioni il commercio mondiale ha subito un significativo rallentamento anzi una vera e propria caduta in qualche mese dell'anno però si vede abbastanza bene anche da questo grafico che qualche cosa si sta muovendo che il peggio sembra essere alle nostre spalle e il commercio mondiale sta riprendendo lentamente ad avere questa funzione di traino e sostegno alla crescita internazionale ce lo dicono anche le opinioni degli operatori ed è la riga verde in questo grafico riportano le opinioni sull'andamento prospettico dell'esportazione fatta agli operatori all'export e ci dicono anche lì le loro attese insomma sono diventati via via più ottimisti è chiaro che la firma dell'accordo tra la tregua chiamiamola così tra Cina e Stati Uniti che è intervenuta proprio pochi giorni fa sicuramente aiuterà in questo senso anche se è una tregua non è la firma del trattato non è la pace non si sa quanto siano credibili gli impegni presi dalla Cina nei confronti degli Stati Uniti hanno dichiarato di volere importare acquistare beni agricoli dagli Stati Uniti per delle cifre che hanno come dire stanno poco nella realtà però per ora accontentiamoci della tregua e del rispiro di sollievo che ha dato sui mercati questa firma le previsioni in realtà per il 2020 se uno li guarda in media d'anno dice oh mamma mia un ulteriore rallentamento della crescita mondiale nel corso del 2019 la crescita mondiale è stata è rallentato in modo significativo ha raggiunto il 2,8% uno dei risultati peggiori dell'ultimo decennio e le nostre attese vedono in media d'anno un 2020 di ulteriore rallentamento in realtà è un po' un effetto ottico perché se poi lo si guarda invece in prospettiva noi immaginiamoci un qualche cosa che comunque andrà tutto in salita le prospettive sono di un progressivo miglioramento non al punto tale da portare in media d'anno a un vero e proprio miglioramento ma sicuramente un passo avanti invece a un 2019 che è stato tutto tutto in picchiata e questo dovrebbe poi portare ovviamente nel 2021 a un'accelerazione ulteriore in questa logica e dicevo prima l'importanza degli Stati Uniti perché ritengo così importanti questi dati confortanti sulla competitività del Made in Italy negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti nonostante come dire anche qui c'è un tema di rallentamento da parte dell'economia statunitense ma rimarranno uno dei polmoni della crescita mondiale c'è un rallentamento ma è un rallentamento molto controllato molto controllato anche perché insomma la politica torna anche in questo caso è un anno elettorale cioè chi vuole una frenata brusca dell'economia statunitense in questo momento sicuramente diciamo la presidenza farà di tutto per avere un controllo preciso del rallentamento e non una frenata e le notizie negative appunto cioè l'impatto negativo che ha avuto la guerra con la Cina sul manifatturiero degli Stati Uniti che probabilmente sono anche uno dei motivi di questa marcia indietro e della firma dell'accordo eccetera eccetera per cui con la firma dell'accordo la tregua con la Cina la situazione sta migliorando anche nei confronti del manifatturiero e soprattutto tengono molto molto bene i consumi che insomma per chi produce e vende beni di consumo è sicuramente la buona domanda la crescita dei consumi negli Stati Uniti sarà sostenuta da una buona dinamica del reddito disponibile delle famiglie americane che infatti sono molto molto ottimiste molto più ottimiste rispetto a altri operatori di quel paese e cosa sta dietro questo miglioramento del reddito disponibile questo ottimismo il fatto che un po' di invidia la metto nel mio tono di voce negli Stati Uniti il mercato del lavoro sta facendo delle performance incredibili il tasso di disoccupazione è oramai da molti trimestri da quasi un anno ai minimi dal 1969 anzi in realtà hanno il problema di avere troppa poca disoccupazione poca mano d'opera non riescono a trovare questo da un lato crea un freno ma soprattutto sta portando ad un incremento dei salari lento perché chiaramente ogni mercato del lavoro ha la sua reattività però lo vediamo la dinamica salariale negli Stati Uniti è in accelerazione punto con effetti positivi sulla capacità delle famiglie di spendere famiglie americane che peraltro probabilmente sono state in qualche modo corresponsabili della grande crisi addirittura partendo dalla crisi del subprime del 2007 poi il 2008 poi il grande 2009 però le famiglie americane hanno fatto il loro dovere nel senso che sono state le uniche all'interno del contesto statunitense la riga arancione del grafico che voi vedete alla vostra destra sono state quelle che effettivamente hanno ridotto il loro indebitamento mentre le imprese e lo Stato americano hanno continuato a mantenere un indebitamento molto elevato le famiglie americane volenti o nolenti come dire hanno ridotto fortemente il loro tasso di indebitamento e questo in qualche modo le rende ancora più soli rende ancora più solida la nostra idea che consumi negli Stati Uniti possono hanno spazi per mantenere ottimi tassi di crescita anche all'interno dell'area euro certo con differenze tra paese e paese tra contesto e contesto però anche nell'area euro le notizie sul commercio internazionale che riprende sono sicuramente ottime notizie per l'Europa che è un paese che vive di commercio internazionale a Germania in primis e le buone notizie in qualche modo si fanno anche nel caso dell'Europa dell'area euro anzi sono legate a un andamento positivo dei redditi delle famiglie che sosterranno la domanda interna in particolare per i consumi e come dicevo prima da un lato una domanda interna più favorevole qualche margine in più anche di adattamento delle politiche fiscali è cambiato il muda anche dal punto di vista con la nuova commissione europea in qualche modo lasciare sullo sfondo il quadro delle regole molto rigide per quanto riguarda sia i debiti pubblici ma anche si sente vera novità di questi giorni delle deroghe al concetto di aiuti di Stato cioè si stanno sentendo delle cose che era tanti anni che in Europa non si sentivano per poter sostenere la transizione le tre grandi transizioni che abbiamo davanti e che sono quelle che ha citato anche Beatrice Biaggi prima transizione demografica gravissima per l'Europa transizione tecnologica che offre opportunità spaventose ma va colta va capita in qualche modo va sfruttata e poi la transizione verso la sostenibilità un mondo più sostenibile e dicevo diciamo l'Europa sicuramente può contare potrà contare su uno scenario più favorevole da un punto di vista della domanda mondiale ahimè in Italia in questo contesto noi prevediamo una crescita ancora modesta così come è stata nel 2019 una lieve accelerazione proprio per via del contesto migliore anche all'interno dell'europeo e sappiamo tutti che in realtà la legge di bilancio ha potuto far poco perché c'era questo enorme scalino delle clausole IVA da risolvere ricordo dall'anno scorso di avervi fatto vedere un grafico in cui si vedeva l'impennata e faceva discretamente paura ebbene quella mina lì è stata disinnescata ma non si è riuscito a fare nient'altro e purtroppo è così e la tenuta dei consumi che noi ci aspettiamo per il nostro paese è legata a una buona dinamica attesa nel reddito disponibile anche qui una buona tenuta anche gli ultimi dati ce lo dicono c'è un po' questo disallineamento tra l'andamento misurato dell'economia misurato dal PIL e poi invece l'andamento del mercato del lavoro chiudo con una cosa che penso vi possa interessare e poi vi lascio andiamo tutti a mangiare che cosa succederà del prezzo dell'oro in questo contesto le nostre attese sono per in realtà anche nel corso del 2020 il mantenimento una sorta di consolidamento di questo percorso di crescita del prezzo dell'oro si rimane su dei livelli elevati la riga blu è quella la nostra view come vedete non si discosta molto da quella che è in realtà la mediana di consenso siamo se vogliamo leggermente addirittura un pochino più pessimisti pessimisti o ottimisti a seconda non dovrei esprimere un giudizio di valore cioè pensiamo che il prezzo possa rimanere nettamente al di sopra del 1500 come è arrivato attualmente e al limite ci sono anche dei potenziali rischi a rialzo nel senso che è un mondo fatto con un'enorme liquidità è un mondo in cui non c'è giorno in cui non ci sia una causa di incertezza che sposta gli asset verso beni rifugio pensiamo che cosa sta succedendo in Medio Oriente ogni giorno abbiamo una notizia che arriva di nuovo da aspetti geopolitici che crea incertezze e crea desiderio di asset sicuri e per cui quello è il risultato in termini di prezzo dell'oro contiamo sul fatto che il Made in Italy in realtà ha un po' la lezione l'abbia imparata e che forse sia anche capace di convivere con un prezzo dell'oro di questo tipo è un po' un anno di prova in cui mettere in discussione tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi e fino adesso in questa mattinata grazie 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 grazie